madonna che grande che sei bravissimo allora l'hai candelata ma ottima tattica per non rimbalzare che è questo il rimbalzo quindi bravo Enea ok che gagni che siete bravi se volete fare bene questo non perdete tempo in quello la sopra ok va bene non ti preoccupare eri perfetto in aria ci sta o ok eri un po lento l'ha però molto bravo qua ok tu l'hai pompata tantissimo l'hai tirata su nonostante andarsi lento ma si è stato molto bravo ok un po corto la prossima volta mena di più la sopra tranquillo Cree è bravo tranqui ok bravo mamma mia che super pompata però occhio perché in volo da qua non si è visto cioè dalla telecamera non si vedrà ma eri stortissimo alle 8 boni ok una cosa piuttosto che stare col sedere indietro fai come ha fatto Enea ammazza se ci credi bravissimo tecnica di Enea ok anche tu non andare col sedere indietro perfetto però prima secondo me l'avevi fatto meglio un po lento 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 va bene un po meglio di prima bravo da gliene da gliene pompa è quasi dai dovete essere più veloci la troppo lento però ammazza quanto la pompata ok un po pericoloso così è va bene dai corto ma fatto bene ah grande bravissimo fritz ok un po lento 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 lento